la fiera è veramente bella io la sto vedendo crescere giorno per giorno le aziende si stanno spendendo sempre di più per fare sempre più best-end quindi per noi è confortevole è un'iniziativa che si fa a Lecce e portare le grandi aziende a Lecce non è facilissimo quindi merito a Genzia di Eventi merito alla Camera che supporta tutta questa iniziativa che richiama da tutto il Mezzogiorno d'Italia insomma tutti i pasticceri, i panificatori tutto il mondo della panificazione quindi credo che sia un vanto L'evento si prepara alla sua diciottesima edizione tra conferme degli anni precedenti e tante novità Come ogni anno le novità consistono nell'avere sempre ospiti diversi con encomi importanti tipo per esempio avremo lo chef stellato Due Stelle Michelin e Giovanni Solofra c'è il fuorisalone che faremo al castello e parleremo per le nostre aziende daremo informazioni su come organizzarsi per l'export Agroge Pacioc 2023 si presenta dunque con belle novità nuovi chef stellati pronti a salire in cattedra importanti concorsi e sfide gastronomiche che caratterizzano fin dalle origini il salone internazionale di food e beverage di Scena a Lecce Lecce come punto di partenza perché come ogni anno l'evento attira operatori buyer e addetti ai lavori da tutta Italia e non solo È un evento importante che si estende questa volta a livello internazionale La fiera l'abbiamo spinta, stimolata ad avere questa visione internazionale è cresciuta e continua a crescere portando il nostro prodotto e il nostro territorio nel mondo Questa è un'occasione straordinariamente importante per le nostre imprese fide reproduttive per la nostra capacità di trasformazione e per la nostra capacità per la prima volta anche di interfacciarci con business internazionali con buyer che possono venire qui a conoscere i nostri prodotti conoscere la fida reproduttiva Esposizione e formazione il connubio che da sempre caratterizza Agrogepacioc